Grazie Presidente. 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 Siamo ben disposti a trovare delle soluzioni con la Giunta per portare avanti questa buona pratica. Riteniamo sia doveroso. So benissimo per esperienza seppur breve vedendo come vi date da fare giustamente per il bene dei Lombardi che quando la Giunta vuole ottenere qualcosa fa di tutto e riesce a ottenere sempre questi risultati. Quindi ci auguriamo che questa opportunità e questa riflessione venga condivisa e venga approvata questa mozione. Grazie. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie Presidente.